La caduta del governo Draghi e la decisione del capo dello Stato di sciogliere le camere e di indire le elezioni politiche per il prossimo 25 settembre ha sparigliato le carte in Molise, dove la prospettiva di un election day a primavera in concomitanza con le regionali ha consentito sino ad oggi a pezzi da 90 dei partiti di giocare a carte coperte, bleffare e sostanzialmente nascondersi dietro le frasche del c'è tempo e poi si vedrà tutto saltato per aria. La corsa alle candidature si è già aperta facendo i conti col pallottoliere. Dopo la riforma costituzionale che ha abbassato da 945 a 600 la rappresentanza parlamentare generale, il Molise ha perso un seggio e sono quindi quattro le caselle che andranno riempite, due al Senato e due alla Camera. In entrambi i rami del Parlamento un seggio verrà assegnato col sistema maggioritario e l'altro col proporzionale. Alle politiche 2018 il Molise lesse cinque parlamentari, quattro per il Movimento 5 Stelle, Antonio Federico e Rosalba testamento alla Camera, Luigi Di Marzio e Fabrizio Ortis al Senato, il quinto parlamentare col meccanismo dei resti nazionali, venne assegnato a liberi uguali portando alla Camera dei deputati Giuseppina Occhio Nero poi passata a Italia Viva di Renzi. Nel conto non entra la deputata Anna Elsa Tartaglione eletta in Puglia. Dei pentastellati già scomparsi per tre quarti strada facendo, verosimilmente non resterà nessuno. A mettere la pietra tombale sul Movimento in Molise è stato lo stop del segretario nazionale del PD Enrico Letta che ha escluso l'alleanza col Movimento 5 Stelle. Saltano i collegi maggioritari e la coalizione. Partizione da soli 5 Stelle non andranno da nessuna parte, men che meno al proporzionale. Per tutti gli altri invece la partita è aperta, specie per il centrodestra, che potrebbe, vista l'alleanza tra i partiti che lo compongono, assicurarsi tre collegi su quattro, Senato maggioritario e proporzionale per il meccanismo di voto per Palazzo Madama e Camera maggioritario. Balla il posto al proporzionale, dove è il singolo partito a prevalere e non la coalizione. E qui la previsione va in direzione PD, unico partito realmente strutturato in Molise. La variabile politica abbassa la febbre per le regionali, dove nessuno tra centrodestra e centrosinistra al momento ha carte per vincere e che porta i maggiorenti dei partiti a sgomitare per un posto a Roma.